Abbandoni scolastici e giovani inoccupati in Trentino e in Valsugana. Esiste un problema di povertà educativa in Trentino ed in Valsugana? Quanti sono i ragazzi che abbandonano gli studi e di net, giovani né occupati né inseriti in percorsi di formazione? L'Italia è il paese europeo con il più alto numero di giovani che non lavorano né si stanno formando. I ragazzi che abbandonano la scuola lo fanno quasi sempre per cercare lavoro. Rispetto al resto del paese, qui da noi la situazione è decisamente migliore grazie ad un sistema scolastico che scoraggia l'abbandono, a un mercato del lavoro efficiente e soprattutto il ruolo fondamentale della famiglia. Fattori che incidono chiaramente sulla povertà educativa di un territorio, ma i giovani devono essere sempre più supportati con programmi di rieducazione. Sono il nostro futuro, il futuro dei nostri paesi, della Valsugana e del Trentino. Grazie a tutti!